Lo stadio Benelli di Pesaro avrà un nuovo campo da gioco. La giunta comunale ha infatti approvato oggi la destinazione dei 900.000 euro inizialmente previsti per la copertuna della tribuna Prato al rifacimento del campo e ad altri interventi collaterali in accordo con la Vispesero. La partita, recentemente rinviata per allagamento contro il Pontedera, ha rimarcato in maniera quanto mai eloquente come il manto erboso attuale non riesca più a drenare l'acqua nonostante l'intervento di straordinaria manutenzione effettuato in estate da 70.000 euro. Il sindaco Ricci e l'assessore Alfare Pozzi nella giunta di questa mattina hanno anche indicato il cronoprogramma col quale si conta di iniziare il cantiere all'indomani dell'ultima partita del campionato in corso per poter così iniziare la stagione 2023-2024 col nuovo campo. Ricci ha sottolineato che con questo stanziamento sono stati raggiunti 3 milioni di euro di investimento sullo stadio, ma si cercano anche altre risorse per il problema della copertura della tribuna Prato, così come con Aspes si sta definendo un accordo per intervenire sulla demolizione della vecchia tribuna e sulla riqualificazione del circolo amici della Vis e dei servizi igienici.